Michele responsabile vendite di Opel Buzzetti e qui accanto a me sicuramente anche oggi ci parlerà di qualcosa di interessante intanto ciao Michele ciao Rosi grazie fantastico come sempre allora un saluto anche a tutti i nostri amici che ci seguono signori la primavera è alle porte sta arrivando quindi le offerte sono veramente tante anzi tantissime quindi io vi invito ma veramente numerosi a venire in concessionaria chiedeteci tutto tutto quello che vi interessa i prezzi soprattutto super prezzi super offerte siamo qua a vostra disposizione per accontentarvi e accontentare i vostri desideri dando la macchina dei vostri desideri a questo punto passiamo la parola ai colleghi che entrano nei dettagli noi ci salutiamo dopo a dopo grazie ciao un ciao da Dimitri da Francesco e da Mauro ciao anche oggi grandi offerte io inizierei col dire qualcosa ai nostri clienti allora partiamo subito con degli incentivi delle offerte veramente strepitose abbiamo zero pensieri e con l'offerta della mini rata a 99 euro al mese sia percorsa per carla nuovissima carla bellissima e la e l'adam senza dimenticare una cosa molto importante le nostre bfue con solo 20 euro in più avete sia adam a gpl e corsa gpl e sapete benissimo quanto andate a risparmiare praticamente sulla rate come se non la pagate le nostre offerte sono comprese anche dei servizi assicurativi estensioni di garanzia diciamo che non manca nulla perché sono macchine e complete anche quando vogliamo dire zero pensieri è perché offriamo un pacchetto con estensioni garanzia con le polizze assicurative per quanto riguarda sia il veicolo che la persona quindi veramente uno paga le sue quote tranquillo e non pensa più senza dimenticare anche le super offerte che stiamo riusciamo a fare per le volle le vostre macchine usate perciò venite fateci fare la valutazione non dimenticate di chiederci la prova test drive abbiamo le nostre vetture aziendali e siamo disposti a farvele provare e in ogni percorso sconto mega sconto mega sconto oltre 7 mila euro su granland venite a vederla venite a provarlo grande su di opel 130 cavalli e 177 cavalli perciò anche quelle da provare il cambio automatico auto rapporti è da provare veramente fantastica la macchina veramente di prestigio e non dimentichiamo anche i servizi anche di post vendita magazzino super fornito e per quanto riguarda pneumatici tagliandi manutenzione servizio carrozzeria a 360 gradi perfetto cosa fare alzatevi dal divano veniteci a trovare ok mi raccomando chiedete la prova su strada importantissima e poi per chi ancora non avesse ben compreso il discorso di scelta opel venite a chiederci chiaramente non dimentichiamo una cosa mauro macchine per i neopatentati non c'è solo corsa e adam ma anche 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 la crossland 82 cavalli possono guidarla anche i neopatentati perciò vi aspettiamo per una prova non avete scuse ciao veniteci a trovare ciao ciao e proseguiamo con proposte altrettanto interessanti su vetture d'occasione chilometri zero aziendali in compagnia del responsabile dell'usato maurizio di giuseppe ciao ciao rosy benvenuta benvenuti a tutti oggi grandi promozioni grandi offerte vetture di ogni tipo per qualsiasi esigenza e abitudine quotidiana io adesso partirò con una rassegna di vetture chilometri zero aziendali usate tutte tutte per voi venite a trovarci e troveremo sicuramente la soluzione più adatta a voi partiamo con uno splendido usato una mazza cx 5 e volve quattro rotte motrici dell'aprile 2013 con soli 66.900 km una vettura oserei dire pari al nuovo a che proponiamo un prezzo di 15.900 euro è una vettura full option bianco perlato navigatore cerchi in lega la vettura è dotata anche di sensore di parcheggio anteriore e posteriori climatizzatore automatico il sedile sdoppiato vetri posteriori oscurati una vettura veramente completa passiamo ora una nostra vettura chilometri zero una splendida opel adam 1.2 benzina 70 cavalli allestimento glam del dicembre 2018 una vettura dotata di moltissimi accessori tra cui il cerchio in lega bicolore il tetto panorama il rotino climatizzatore automatico il sedile posteriore sdoppiato sensori di parcheggio posteriori a un prezzo di 12.200 euro anche questa una vettura veramente da venire a vedere un colore molto molto particolare molto bello quindi non perdetela passiamo adesso una opel crossland 1.2 turbo benzina 110 cavalli allestimento innovation una vettura immatricolata maggio 2018 con soli 8560 chilometri una vettura accessoriatissima con interni pelle tessuto climatizzatore automatico cerchi in lega sedile posteriore sdoppiato rotino fendinebbia una macchina benzina quindi molto attuale devo dire che proponiamo un prezzo di 15.900 euro passiamo un'altra nostra vettura aziendale una opel crossland x 1.6 diesel advance 99 cavalli dell'aprile 2018 con soli 11.495 chilometri per la precisione euro 6 quindi nessun blocco e una vettura dotata anche questa di climatizzatore e cerchi in lega un sedile sdoppiato una vettura anche questa da non perdere venite a vedere una macchina praticamente come nuova a un prezzo di 15.900 euro passiamo ora un nostro usato garantito chilometri certificati una splendida Audi A4 Avant 2.000 TDI 190 cavalli multitronic allestimento business del giugno 2015 con 73.120 chilometri quindi veramente per questa vettura 70.000 chilometri finito il rodaggio adesso è una macchina full option quindi cambio automatico navigatore cerchi in lega che chi più ne ha più ne metta a un prezzo di 18.700 euro non fatevi problemi a chiederci di provare le vetture perché provandole si ha la certezza poi che quello che noi proponiamo è pari al vero ecco passiamo una nostra vettura usata recente molto recente perché un maggio 2018 con soli 9.160 chilometri parliamo di una opel moca x 1.6 diesel 136 cavalli allestimento innovation una vettura con luci diurna led fendi nebbia cerchi in lega bicolore interno pelle tessuto climatizzatore automatico vetri posteriori oscurati rotino una vettura molto molto completa che proponiamo un prezzo di 17.500 euro renault megan 1.500 diesel 110 cavalli allestimento gt line del febbraio 2013 nostro usato garantito con soli 33.420 chilometri una vettura full optional cerchi in leghi navigatore interni pelle tessuto fendi nebbia sedile posteriore sdoppiato tutto praticamente una vettura molto molto complessa che proponiamo a un prezzo di 10.900 euro passiamo adesso una splendida opel astra 1.6 diesel 136 cavalli cambio automatico sport tourer allestimento innovation una vettura che ha su 9.390 chilometri del marzo 2018 quindi una vettura oserei dire pari al nuovo con navigatore cambio automatico appunto cerchi in lega una vettura completa di tutto che proponiamo un prezzo di 17.600 euro venite a vederla perché è veramente una vettura per tutti gli usi cittadino extra urbano quindi poi consuma pochissimo quindi vi aspettiamo per vedere questa vettura passiamo ora una opel mocca 1.7 diesel versione ego nell'aprile 2013 con soli 73.000 chilometri una vettura che proponiamo a un prezzo di 11.300 euro veramente rapporto qualità prezzo eccezionale la vettura in ottime condizioni di usura e venite a vederla una macchina che ha ancora molto da dire da raccontare da fare quindi approfittatene poi per chi desidera avere una vettura una vetturina per la città per le medie percorrenze una vettura che comunque costi poco e che renda tanto vi propongo due opel Meriva una 1.4 16 valvole Enjoy del gennaio 2007 con su 120.000 chilometri a un prezzo di 4.300 euro passiamo a quest'altra vettura sempre stessa motorizzazione Meriva 1.4 16 valvole Cosmo quindi un allestimento un filo più ricco del marzo 2006 con 100.000 chilometri a un prezzo di 3.700 euro disponibili Opel Corsa 1.2 benzina e 1.3 diesel chilometri zero a partire da 11.900 euro venite a trovarci e vi faremo vedere le varie soluzioni passiamo ora a una splendida Opel Astra 1.600 diesel 5 porte Innovation dell'ottobre 2018 una vettura full optional che proponiamo a 20.100 euro splendida Forcuga 2.000 diesel 150 cavalli 150 cavalli scusate 4 ruote motrici allestimento titanium del gennaio 2017 con soli 55.000 chilometri full optional veramente una vettura bellissima come nuova a un prezzo di 20.900 euro vi ricordo anche che tutte le vetture usate sono consegnate al cliente finale tagliandate messe a punto pulite dentro e fuori nulla nulla e nulla viene lasciato veramente al caso nulla viene lasciato al caso questa è una frase che io dico sempre dirò sempre perché è indice di serietà e di garanzia da dare a un cliente questa è una cosa obbligatoria per noi io vi ringrazio vi saluto e alla prossima bene le super offerte sicuramente ve le hanno spiegate ma sicuramente ve le daremo nei dettagli qua da noi venite a trovarci quindi ripeto venite a trovarci numerosi vi aspettiamo e gli indirizzi trovate in sovrappressione a presto ciao ciao